Simone Palombi alla sua prima intervista con la nuova maglia dell'Alessandria ecco raccontaci come è andata questa trattativa perché tu arrivi qui ad Alessandria a titolo definitivo quindi ti leghi all'Alessandria in modo duraturo. Sì sono molto contento di questo ho deciso di sposare il progetto dell'Alessandria che è stata la squadra che mi ha cercato diciamo con più insistenza già i primi contatti all'inizio del mercato poi la trattativa è sbettata un po' per le lunghe quindi sono molto contento di entrare a far parte di questa di questa famiglia. Ecco una scheda del Simone Palombi giocatore. Ma il Simone Palombi giocatore penso che abbia una buona esperienza nel campionato di Serie B deve consacrarsi in modo definitivo e quindi questo sarà il mio obiettivo di quest'anno. Ecco raccontacela un po' questa Serie B tu l'hai vista su piazze anche prestigiosi l'hai giocata anche bene. Ma il campionato di Serie B è molto particolare molto difficile ci sono tante componenti che faranno la differenza come il gruppo come il lavoro come la negazione quindi sarà un campionato tosto perché comunque ci sono squadre molto attrezzate sarà una Serie B ancora più competitiva di quella dell'anno scorso e noi ci faremo trovare pronti. Le tue prime impressioni dopo gli allenamenti che hai fatto con i nuovi compagni di squadra? Ma ho avuto modo di conoscerli, la maggior parte già li conoscevo per le varie esperienze che ho avuto con loro è un gruppo solido, sano, ho avuto modo di seguire la scalata dell'anno scorso e soltanto con un gruppo così puoi fare determinati risultati quindi le mie sensazioni sono molto positive, i ragazzi sono stati molto accoglienti quindi sono contento di questo.